ciao mi chiamo antonio lallo ho 50 anni sono sposato e ho due figli meravigliose meravigliose già qui si sente che non parlo veramente perfetto italiano però quest'anno mi metto sotto si dice la prima volta quando sono venuto in asilo kindergarten come si chiama in Germania mi dicevano ma tu chi sei sono un attore italo tedesco ogni anno vado andiamo a fare le ferie nella casa mia e per una settimana veniamo qui a Volter a fare le ferie qui c'ho l'aspetto tedesco parlo italiano diciamo così così con l'accento napolitano così sono cresciuto ora faccio finta di essere una persona ricca perché c'ho la piscina qui e la casa qui sopra però siamo ancora a Volter a Vila Palacione una cosa che per me è veramente importante è di mangiare in tedesco quella cosa che mi piace a Norella a mangiare è un piero musso cerca sempre il sistema come funziona qualcosa e poi di obbedire queste regole l'italiano cerca come funziona il sistema e come evitarlo capite sto pensando di descrivere il sentimento quando ero sul cimitero aderiscito del mio paese diciamo paese di papà perché lì ci vado ogni anno a trovare le tombe della mia zia dei miei nonni e mi sento sempre un po' non lo so come devo dire un po' strano a dirlo ma mi sento tornato a casa dare amore e ricevere l'amore questa è la cosa più importante della vita per me se c'è una mosca la mosca